Sviluppo di eccellenza Viene dal pieno utilizzo dei propri talenti, delle proprie risorse, dei propri punti di forza Una parte della giornata è dedicata a questo, a scoprire per che cosa siamo nati, per che cosa siamo tagliati e come metterlo a segno Un'altra parte della giornata è invece dedicata a portare queste scoperte all'interno del gruppo Un gruppo che funziona, è un gruppo fatto di persone che hanno alta cognizione del modo in cui possono contribuire Ed è un gruppo che sa utilizzare e mettere a segno le risorse di tutti L'eccellenza non viene dalla correzione dei problemi, ma viene dalla esaltazione delle potenzialità E questo è il modo in cui abbiamo voluto costruire il lavoro di questa giornata Grazie 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 Grazie